Il Cavaliere e il suo rapporto con l'Aquila, aneddoti e fatti che oggi ha raccontato sul centro il giornalista Giustino Parisse. Non si contano le visite all'Aquila di Berlusconi, l'impegno per la ricostruzione nei progetti case, il villaggio di Onna costruito in tempi record e un discorso storico, quello che pronunciò il 25 apri la donna per la festa della liberazione, che quest'anno è stato ripreso più volte dalle tv nazionali. La visita di Berlusconi il 25 aprile, io ero lì, eravamo alla villa comunale davanti al monumento che ricorda le vittime della strage nazista e lui colse quell'occasione per una sorta di pacificazione, in qualche modo pacificazione nazionale, tant'è vero che poi c'erano alcuni partigiani dietro di lui che gli misero il famoso fazzoletto intorno al collo. Quello, secondo molti storici e anche secondo molti giornalisti, l'hanno ricordato anche in questi giorni, fu uno dei momenti più alti dello statista Berlusconi. che poi il 15 settembre del 2009, quindi dopo pochi mesi, inaugurò o nel villaggio Mapp, che ancora ci abbiamo, che fu un tetto per tutti quelli che l'avevano perso e o non l'avevano perso veramente tutti. Il G8, sempre una sua intuizione, con i grandi della terra che poi hanno adottato alcuni monumenti da ricostruire, l'amicizia con Gianni Letta, un abruzzese doc, che è sempre stato vicino al cavaliere nella sua vita e anche nei fatti tragici del capoluogo di regione, come consigliere, a volte mediatore. Il rapporto, insomma, è stato un rapporto stretto che porta con sé la riconoscenza di molti e anche qualche critica di chi non ha gradito il modello applicato all'Aquila. Sul G8 ci credeva solo lui, perché questo è noto, l'ha voluto lui fortemente. Tanto è vero che Guido Bertolaso, che all'epoca era il capo della protezione civile, quando lo seppe gli tremarano le vene, perché chiaramente spostare diventava complicatissimo. Gianni Letta, più che amico braccio destro, diciamo Gianni Letta era Berlusconi. Quando parlavi con Gianni Letta è come se parlassi con Berlusconi. Quindi è stato un uomo fondamentale, un uomo moderato, un uomo che parlava con tutti, anche con le opposizioni e spesso smussava anche qualcosa che poteva non andare. Poi Gianni Letta, lo sappiamo, è abruzzese, è stato qui, ha fatto molto, devo dire, anche con la famosa commissione Cicchetti che poi alla fine si rivelò un fallimento, ma non certo per colpa sua. Quindi certo, quando veniva Gianni Letta veniva Berlusconi.